In questo video andiamo a vedere alcune delle principali funzioni del programma. Quindi la prima è se dovessimo annullare un'operazione che abbiamo appena fatto. Abbiamo per dire sbagliato, copio questo ramo, guarda facendo CTRL C, mi metto qua, lo metto come figlio del ramo stesso, facciamo CTRL V, e avessi sbagliato, volessi tornare indietro, la cosa che posso fare è annullare l'operazione andando sulla freccetta in alto. Quindi annulla, mi elimino l'operazione precedente, avanti invece me la fari fare. Ok, quindi adesso manteniamo questa come se fosse corretto, quindi andiamo su design, scusa, su layout, gli diamo un pulisci, così si prende il suo spazio, e adesso un'altra funzione che andiamo a vedere è quella di inserire del testo libero, del testo vagante. Immagina se questa mappa volessi stamparla e sopra mettere ad esempio qua una scritta particolare oppure in basso autore e così via, puoi dare inserisci testo, testo libero. Qui chiaramente puoi scrivere, ne so, mappa esempio, mappa esempio. Anche qui chiaramente puoi cambiare il colore come ritieni, cambiare il carattere e così via. Ah, scusa, non l'avevo selezionato e quindi non mi ha cambiato il colore, devo selezionare. Resta una cosa, di solito questo lo puoi mettere in basso per scrivere o l'autore oppure i crediti, qualcosa. Che non lo vai a mettere sui rami. Questa è un'altra funzione. Un'altra funzione molto importante è questa. Guarda, ipotizziamo di avere un ramo che diventa molto vasto. Man mano che stai studiando, prendendo appunti, oppure è una conferenza, un discorso dove uno stesso argomento continua ad aggiungere figli e quindi si presenta questa situazione. Io adesso qui per velocizzare l'ho copiato, vado qui, incollo e dopo lo incollo di nuovo. Immagino, togliamo qualche immagine. Se volessi ad esempio eliminare questa nuvola qua, faccio il doppio clic sopra, mi compare, gli dico elimina. Lui me la toglie. Ecco, immagina adesso questo ramo, cambiamo colore e così via. Facciamolo diventare ancora più vasto. Guarda, aggiungiamo questo ramo, facciamo CTRL-C e lo incolliamo qua. CTRL-V e anche ancora questo. CTRL-C, CTRL-V, a questo punto gli diamo un pulisci, andiamo su layout, pulisci e guardando la mappa nel suo insieme ci rendiamo conto che è vero che possiamo spostare di qua e bilanciarla, dandogli di nuovo un pulisci, resta abbastanza omogenea, abbastanza organizzata. Ma se volessi rendere questo ramo, renderlo una mappa a sé, la cosa che puoi fare è andarci sopra, fai clic col destro e gli dici converti in idea centrale. A questo punto ti chiede che immagine vuoi inserire al centro della nuova mappa che andrai a fare? gli dico ma scorriamo sopra, scegliamo questa, scegli e quello che era il tuo ramo di qua adesso è diventata un'unica mappa che chiaramente dovrai andare a ordinare. Ordinare intendo distribuire i rami nell'ordine in cui vuoi che vengano ordinati. Dopo gli puoi dare subito un bel pulisci e guarda, quello che prima era un ramo molto fitto, molto confusionario, adesso ce l'hai qua come una nuova mappa. E qui noti a questo punto che hai più mappe, qui anche adesso gli posso dire di ordinare lo spazio, gli do un bel pulisci, se la mappa resta suddivisa. Qui il collegamento lo ha mantenuto, se volessi mi basta andarci sopra e gli dico, lo voglio eliminare, faccio cance. E adesso ho due mappe, in questo modo. Puoi anche questa mappa copiarla, quindi ctrl c, ti apri un altro file, quindi gli dici nuovo, le selezioni una a caso, gli dici inizia, questa lo elimini e dopo su questo gli dici incolla. In modo che così hai due mappe, anche qui chiaramente devi andare a vedere come ordinare i rami. Pulisci, questo magari lo sposti da sto lato. Chiaramente non è che fai gli spostamenti così a caso, ma dovrai rispettare la gerarchia delle informazioni. Ed ecco qua che hai un'altra mappa con, che la puoi chiamare, un altro file. Mentre prima erano tutte sullo stesso file, adesso così hai una mappa a sé. Allora, dove l'abbiamo fatta andare? Ecco, qui questa alla fine la salverai sotto un unico nome, ma sai che all'interno ci sono due mappe. Mentre così hai una mappa dedicata a quest'argomento. Immagina se su quest'argomento, se qui stavi trattando ad esempio una riunione, ad un certo punto si arriva su un progetto particolare da sviluppare, e questo è il nome del progetto, no, questo ramo che abbiamo trasformato. Prima era un ramo molto vasto, era un progetto, a questo punto puoi salvare. Fai diventare una mappa a sé e questa è la mappa del progetto intero. Quindi in questo modo aggiungi, trasformi un ramo, lo converti proprio un ramo in una mappa. Un'altra cosa che puoi fare è questa. Clicchi sopra e guarda ti dice trasforma. Quindi prima converti e mi crea una mappa nuova. Adesso invece gli dico trasforma e guarda cosa fa. Trasforma ramo in idea centrale. L'ha trasformato provvisoriamente in una mappa, ma mi basta cliccarci sopra. Vedi che qua ha questi simboli. Mi basta cliccarci sopra questi simboli. Mi dicono che fanno parte, che questo in realtà è parte di un'altra mappa. E quindi è soltanto un modo per vedere le cose più nel dettaglio momentaneamente. Dopo clicco qua e dico torna a mappa principale e mi fa tornare le cose come erano. Quindi lo scopo di queste due funzioni è diverso. Uno converti in idea centrale, la converte definitivamente. L'altro trasforma, te la fa vedere momentaneamente come unica mappa. Ti fa vedere come una mappa, un singolo ramo. Adesso così hai diverse mappe su uno stesso pannello di lavoro. Questa funzione è molto utile perché se stai sviluppando un progetto può essere comodo avere più mappe su uno stesso piano di lavoro. È come dire, inizia a sviluppare questo ramo, questo ramo ti rendi conto che dopo ha bisogno di tutta una serie di cose da fare e queste cose vanno fatte fare da diverse persone. Allora puoi fare diverse mappe all'interno di un unico spazio in modo da avere una visione di insieme. Un'altra cosa che puoi inserire, ed è una funzione che si usa sempre molto a livello manageriale, è ad esempio i tempi di scadenza delle varie cose da fare. Guarda come diventa semplice gestire le cose in questo modo. Qui ad esempio hai una delega, vai su questo spazio e questo qui ti dice il nome del ramo, data di inizio, data di fine, durata, completato. Man mano che la persona sta andando avanti, completa e segna completato al 10, al 15, al 20% il livello di priorità, in modo da rendersi conto di come la situazione stia evolvendo. Questo serve per avere sempre tutto quanto sotto controllo. Un'altra cosa interessante è quello di vedere direttamente da qua la gerarchia delle informazioni di ramo per ramo delle tue mappe. Vedi qua riunione, il primo ramo, qui ti fa combaciare esattamente i colori in modo che con un colpo d'occhio diventi molto molto semplice riuscire a vederla anche in questo modo. Quelle che abbiamo visto erano delle funzioni per rendere più efficace e performante la nostra mappa. Adesso, nel prossimo video invece, andremo a vedere delle funzioni del programma che sono molto particolari e molto utili, come ad esempio esportare, stampare oppure fare una presentazione con il software. Ti aspetto nel prossimo video.